Buon mercoledì 15 settembre. Voglio prima di tutto ringraziare il club che al martedì 19.30 si trova all'Arcella da tempo e che ha chiesto un incontro per discutere di legittime controversie relativamente all'interpretazione della sofferenza mentale, della malattia mentale. E quello che voglio sottolineare è il carattere dialettico, anche conflittuale, della discussione. Noi ci siamo rappresentati nel mondo dei club come qualcosa che è a metà strada tra il volontariato e l'autoaiuto, intriso di romanticismo, di una dimensione giustamente fondata sull'amore, la solidarietà e l'amicizia, ma che cerca di eludere il più possibile l'aspetto conflittuale. Naturalmente il conflitto non va ricercato, ma accade inevitabilmente, perché il club è una comunità sostanzialmente libera, aperta, non chiusa, certo con tutti i criteri di riservatezza che sono dovuti nei confronti dell'intimità delle persone, su questo non c'è nessun dubbio, ma il club in quanto comunità non è un gruppo di autoaiuto nel quale un po' ci si commisera reciprocamente, si trova anche forza per andare avanti, questo non voglio criticare in modo assoluto i gruppi di autoaiuto, non è neanche un luogo di volontariato nel quale le persone di buon cuore vanno ad aiutare i zoppicanti di turno, quelli che fanno più fatica degli altri, che dall'alto della loro generosa normalità, cercano in tutti i modi di incoraggiare i loro cari, fidandoli magari nel momento di quelle che considerano effettivamente le cure, a professionisti che in qualche modo cercano di arginare, soprattutto quando ci troviamo di fronte alla questione aperta della malattia mentale, e soprattutto quando questa malattia mentale fa inabissare in una condizione crepuscolare che rende immobile la persona oppure spinge la persona, a volte percependo pericoli e paure che magari sono inesistenti, quindi con un atteggiamento paranoico o per altra ragione, quella persona comincia a diventare un po' troppo esuberante, aggressiva. Tutto questo trasforma naturalmente il club in un luogo di contenimento. Udoli sottolineò in qualche occasione come esiste un rischio reale che i club diventino una sorta di mini manicomio diffuso, intrecciato, una rete di piccoli manicomi, ma non era sicuramente nel suo spirito. Voglio ricordare come anche i momenti di interclub e le settimane di sensibilizzazione fossero contrassegnate, sì, dalla grande affabilità, dalla grande capacità empatica di Udoli, ma anche con la inevitabile presenza di una conflittualità che lui stesso, non per un disegno pianificato, ma per quello che accadeva nelle relazioni, in qualche modo non evitava che accadesse. E anzi, nei momenti della conflittualità, si trovava il modo di porre mano alla crisi. E questo veniva fatto nelle settimane di sensibilizzazione, soprattutto nei primi giorni, perché se non si apre un squarcio nel meccanismo di difesa che le persone ergono intorno a sé e per evitare di essere perturbati, sostanzialmente, se non si generano crepe, crisi vuol dire crepa, vuol dire opportunità di cambiamento. Queste opportunità di cambiamento sono inevitabilmente conflittuali. Quante volte si mette la polvere sotto il tappeto, o si fa come lo struzzo, in una difesa estrema, a testa nella sabbia, per non sentire, per non vedere, quante volte questo accade anche nelle famiglie. Lo status quo viene difeso ad oltranza, anche quando è evidente che le cose stanno potenzialmente precipitando, ma si tenta in tutti i modi di nascondere. Nascondere a sé stessi, nascondere nel sistema delle relazioni intime e intradomestiche, nascondere rispetto all'esterno, non si deve sapere. Ebbene, in certi punti, il club di ieri sera, che era un incontro, possiamo chiamarlo di supervisione, non per una presunzione che ci sia un sapere che sa dare delle risposte definitive ai tanti dubbi e domande che erano presenti, o anche opinioni contrastanti. Nessuno ha, credo, la possibilità di dare risposte definitive, solo i presuntuosi lo fanno e non accolgono i dubbi. Quello che sta accadendo anche relativamente a questa contingenza storico-culturale di questa epidemia. Si evita di affrontare i dubbi di fronte a due posizioni contrapposte, una nettamente maggioritaria, che è quella che obbedisce alle certezze che la scienza propina, e dall'altra parte un manipolo, a volte anche violento, che vuole assolutamente disopedire, vuole, ma lo fa in maniera chiusa in se stessa, è manipolata apertamente, non c'è più alcun dubbio. Da forze conservatrici, reazionarie, e c'è una strana convergenza tra queste due posizioni, che alimentano tutto sommato proprio lo status quo, cioè c'è un litigare anche piuttosto furibondo tra SIVAX e NOVAX, senza accogliere con umiltà le tante domande, i dubbi, che una parte della popolazione ha, che si sia vaccinata o no, perché i dubbi ci sono anche tra coloro i quali si sono vaccinati, non tutti sono certi di aver trovato la via maestra, il sentiero che porterà l'uscita da questa situazione critica. E raramente si trova nei talk show la disponibilità ad affrontare questi dubbi, che riguardano per esempio il progresso nelle cure, non solo nei vaccini, le modalità attraverso le quali decidiamo di portare avanti la nostra esistenza sul piano economico, politico, culturale, ambientale. Non si pone mano a alcuna riforma radicale, necessaria, affinché, qualora vi fossero nuove epidemie, ci si attrezzi, prima di tutto per prevenirle, in secondo luogo per far sì che si trovi un sistema di tutela e promozione della salute pronto, efficace, attento, non messo in crisi per un mancato investimento come è accaduto in questa fase. Questi sono i discorsi che dobbiamo affrontare. Dunque, però torno sulla questione del club di ieri sera, dove i toni a un certo punto si sono anche alzati. e ringrazio chi ha organizzato quell'incontro e anche la sincera presenza, la conflittualità che è stata resa possibile da un clima di un club che evidentemente, anche grazie al servitore insegnante, servitore insegnante perché in quel caso, per motivi contingenti, in realtà quel club è il risultato di due club che di fronte alle difficoltà organizzative hanno deciso di perseverare trovando il modo di incontrarsi in questo momento di crisi per proseguire pronti, immagino, anche a dividersi alla prima occasione la numerosità o la ritrovata. chiamiamola normalità evolutiva, lo permetta. Ebbene, evidentemente, questa comunità è un luogo autenticamente libero dove possono convivere posizioni contrapposte. Ma attenzione, queste posizioni contrapposte, le domande che sono state introdotte, anche, a mio parere, delle forme di manipolazione che esiste sempre nel dibattito assembleare, evitabile che uno cerchi di avere ragione, esprimono quello che le persone hanno dentro. Quante volte nei club si è affermato che l'alcolismo non è una malattia, però in cui loro la stragrande maggioranza pensava che fosse una malattia attribuibile all'alcolista di tutto. Si è stato, si è soprasseduto, diciamo, alle proprie convinzioni personali aspettando con timore la prossima ricaduta che avrebbe confermato che quella persona effettivamente era malata. ma questo pensiero interiore impedisce il mettersi in discussione, ci si trasforma in volontari o in osservatori di un gruppo di autoaiuto. Bene che vengano fuori queste cose, venissero fuori in tutti i club perché chiarirebbero anche, in qualche maniera, anche attraverso discussioni piuttosto accese, il rapporto, per esempio, tra i club e il mondo professionale che anche in questo caso non è omogeneo, nel mondo della scienza e delle professioni. Non ha interpretato la malattia mentale, i disturbi del comportamento allo stesso modo. C'è una parte minoritaria che ha voluto mettere tra parentesi o rivisitare il concetto di malattia mentale dicendo apertamente di non sapere che cosa sia ma sottointendendo naturalmente che l'applicazione del paradigma medico classico sarà occasione il seminario di ottobre, che sarà il 24 di ottobre, ragionare sul concetto di malattia e salute mentale. Ebbene, c'è stata una parte coraggiosa, innovativa, che ha reso possibile la chiusura dei manicomi che si è distinta per un allontanamento dal modello medico della malattia. Non perché sia inutile, tutt'altro, è utilissimo quel modello per curare ma è inapplicabile nel campo della salute mentale e anche questa distinzione, sapete, tra salute non si sa forse organica e salute mentale è un arbitrio, un arbitrio che ci deve portare a riconsiderare ma lo faremo più avanti, l'interconnessione tra il mondo dello spirito e della materialità sono una cosa unica, inscindibile. Ebbene, il clima conflittuale e assembleare caratterizzò i primi passi verso la chiusura dei manicomi. si riunirono in assemblea e discussero con gli internati, si ridiede la parola agli internati riconoscendo che avevano il pieno diritto anche di difendere la loro condizione. Non tutti erano d'accordo di essere liberati dalle catene del manicomio, molti erano anche convinti perché non avevano punti di riferimento all'esterno per quanto male si stessi in manicomio però era meglio stare lì piuttosto che avere l'incertezza. E questo è il vero problema che oggi noi dobbiamo affrontare culturalmente e esistenzialmente e quelle domande dobbiamo farle uscire anche se possono essere dolorose e conflittuali. È un insegnamento che dovrebbe caratterizzare la nostra esistenza non perché il conflitto diventi una vocazione polemica costante ma perché il conflitto sia generato in un contesto che a sua volta poi genera una disponibilità a imparare l'empatia che non passa attraverso sentieri larghi ma molto stretti e quindi si esce da una posizione edulcorata della vita del club e delle nostre esistenze. dobbiamo dobbiamo avere il coraggio degli attriti che esistono tra le persone dobbiamo trovare la capacità di costruire la dimensione dell'amore a partire dalla realtà delle nostre biodiversità inevitabili che rappresentano sì punto di attrito ma rappresentano anche una grande ricchezza che svela tratti di verità e dispone ad un cammino che non delega a nessuno la tutela e la promozione della salute la assume come responsabilità non crea più categorizzazioni che noi tendiamo culturalmente a realizzare per rappresentare la diversità come invocazione di una normalità per alcuni e assoggettamento nella malattia per altri questi sono i punti critici che dobbiamo affrontare ma guardate questo riguarda naturalmente la dimensione del club e la sua dimensione comunitaria e assembleare ma riguarda la nostra esistenza che è costituita da libertà in relazione questa libertà in relazione deve fare i conti con i vincoli con le contraddizioni con le armonie da ricercare tra diversità a volte irriducibili che non possono essere trattenute nascoste o svelate in maniera manipolatoria devono essere espresse in pienezza e laddove ci sia una reticenza troviamo sempre il coraggio di tirarle fuori è uno spirito che naturalmente richiede in una cultura attuale di una globalizzazione conformante conformista che evita in tutti i modi il conflitto per non essere messa in discussione questa cultura trova le forme di anestetizzazione che passano attraverso anche questi atteggiamenti un po' suddoli e di questo dobbiamo liberarci vedete il processo di liberazione deve instaurarsi nella concretezza della realtà quotidiana che non va né esagerata in termini catastrofistici troppe forme di pessimismo negativismo di incapacità di riconoscere la ricchezza del tempo che stiamo vivendo sottolinea solo l'aspetto disperato da una parte dall'altra entusiasmi insensati forme amorevoli che grondano retorica ecco liberiamoci da tutto questo per vivere intensamente l'imprevedibilità della vita la bellezza della vita attrezzandoci per vivere intensamente il conflitto ma nella dimensione dell'amore che non è semplicemente un tratto emozionale istintuale sentimentale è un'azione feconda che avviene attraverso l'apprendimento per questo club si sono dotati delle scuole a questo riguardo ricordo il seminario di domenica prossima su libertà e salute mentale ricordo per inciso che i seminari sono un momento appunto di riflessione preparata da qualche persona che è invitata a portare il proprio contributo ma anche soprattutto di discussione assembleare di trasmissione di contenuti e di conoscenze e allo stesso modo anche di un vissuto conviviale ricordo che il seminario è fatto da una colazione da un breve intervallo in cui si condivide un dolce un caffè qualcosa nella convivialità e poi c'è la convivialità del mangiare insieme dove ciascuno è invitato anche domenica prossima a portare qualcosina da condividere è un segno la convivialità è la caratterizzazione concreta della solidarietà dividere il pane insieme vivere una realtà anche del gusto del piacere di stare insieme a proposito ricordo che domenica bisognerà arrivare prima delle dieci raccomando la puntualità che sia alle nove e si alza un po' prima perché poi non si potrà entrare nel centro storico di Padova dalle dieci alle diciotto quindi ci si attrezza ci si organizza bisogna prepararsi in tutte le cose importanti che facciamo quindi giovedì vi aspetto per la scuola domani su diritto e salute mentale libertà diritto e libertà verso la salute mentale e domenica naturalmente ci sarà sempre l'opportunità di collegarsi per mantenere costante il nostro percorso spirito evolutivo capace di diventare uno spirito critico che aiuta anche il mondo professionale che aiuta la ricerca scientifica che la stimola la rende feconda e la sottrae alla tentazione di possedere una verità assoluta che non è questione umana diventa una questione divina antropomorfizzata troppi scienziati oggi si palesano come una sorta di divinità che anziché accogliere i dubbi sviluppare le domande sono automaticamente preformati a dare sempre risposte di chiusura purtroppo è terribilmente conformista rispetto a un modello di sviluppo buona giornata a tutti